Chiudo, 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 chiudo e vengo avanti e cambio direzione e esco, vai, buono ancora, vai, prima gamba, rappaltezza e vengo avanti, ok, sul posto, rimaniamo sul posto e distendo, vai, distendo, distendo, andiamo, ok, vado giù, prendo le caviglie e distendo le gambe, le mani ferme, mani ferme alle caviglie, ok, vai, dietro e riporto, porto dietro e riporto, vai, porto dietro e riporto, ok, distendo la gamba, distendo la gamba, distendo, 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 quindi bene, boh, boh, si ricorda la resina, ve lo dico, vai, 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 Adam, quando vuoi? Di lato, di lato, vieni, 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 poi è stato con mezzo, rosa, 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 Fiorate, ci dai il pallone per favore che ti dà il pallone. Quella, quella. Forte, 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 forte. Tirato, tirato.